God bless them, please. God bless them. Bravo! Dov' sta? E' dentro, oh ecco! Paxo! Eh, manco muo io! E' andato. Mi sto sparando a un uomo qui, un incognitore. Un incoglionito. Manco muo, eh! Oh! Puoi schiattare o no? Ah, fangu! Oh, che... Madonna! Che cazzo è provato? Mi ha sparato con qualcosa di... Vieni, vai dal paese. Oh, che... Madonna, l'ho ucciso! C'è un mostro! Madonna! Oddio, è partito, è impazzito. Un D34! Un D34! Un D34! Un D34! Sanitaria, basta! Un D33! E? Un D34! Un D34! Un D35! Un D35! Un D34! Un D34! onzezi! non ci sono più tico di quale metriatici dove stava piace come vanno tranquillin ora è arrivato un colpo sopra il valentine sni appeso un po' i cingoli niente non ci ha fatto niente ok benissimo ahahahahah la b... oh guarda gran turn qua eh 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 oh oh my fappa che cazzo ma è bellissimo ahahah meraviglioso distruggiamo un po' gli arberi ma soprattutto come vuole un sdk non rompersi il motore facendo una cosa del genere dai da dove non oh vico ci asci un buco dentro capito faccio due sacchi e li staccolo si um oh perché non spaga ok ma ho distrutto il tindredd a4 come sta messo penso bene perché non 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 ho compito benissimo e ci non mi si si non un b non Oh Prendetelo Il migliore del mio eh Ho distrutto Ho un abbandonato Quello è da prendere il sì Lascio a te in compito perchè io sono Non sono in grado Aspetta se ci riesco Servono fumogeni però Aspetta Ya prendetelo Ah fan come Ah 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 Pure Ma è spot Come ha fatto a sopravvivere questo Ah è pure immortale Guarda F Ah 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 Vai lancialo sopra il personaggio e buttati in trincea Poi lo devo buttare in testa Ah 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 quasi Corri Mettiti in zag Il fatto è che se arriva un colpo qua ci ammazza quelli dentro la trincea E' bestemmia Ma questi Sticacristi Sticacristi Oddio Oddio Che cosa ho brutto Oddio Oddio Bravo Ha distrutto Una tenda Vediamo in diretta Ma santo Bravo Occhio dietro Bravissimo E' cercato il mio carro Non vede nemici Ecco Ecco Che stava qua? Sono strunzo Mi sono da stealth E' che c'ho pure il carro là In mezzo alle linee dei miei Dei miei Dei miei Cioè E' che c'ho E' che c'è E' che c'è Attenzione qua Eh l'ho visto Come si chiama ingegnere mini anti-woman? E' che c'è un nome? No Ah Ingegneri mini anti-woman Sarai ricordato A pi A pi E' rimasto uno vivo E come fa Svv? Ah, fangu Ok, boh, appena sta pescata il tempo, finca tempo Andiamo 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 Servate Kv1 Uh Abbiamo più veicoli russi che veicoli tedeschi Ehi, in guerra Non c'abbiamo la logistica Ce la creiamo noi in la logistica Rubando Eh, si E' più l'occarazzato, perché non è normale C'è pure un cannone, ieri Come fa? Ah, questo è uno nuovo Ammazzatelo, per favore Ma perché voi guardate a terra quando... Ahahah F F C'è anche questo non muore prima che scada il tempo E infatti non muore E infatti non muore Esatto Ahahahah Che spettacolo Acquita A veri Grazie a tutti.